Un piccolo ma significativo passo verso la salvezza. Il Teramo porta via da Gubbio il risultato che voleva. Un pareggio per 1-1 che lascia i bianco-rossi avanti di tre lunghezze sugli avversari odierni. Bravo il diavolo a reagire dopo un inizio svagato per poi soffrire realmente solo ad inizio ripresa. Unico neo, il Gubbio, tiene il vantaggio nello scontro diretto grazie alla vittoria dell'andata. Senza lo squalificato Sales, Palladini inserisce Varas a destra e per il resto conferma la squadra che ha battuto la Triestina. In panchina il neoportiere Matteo Ricci al posto dell'infortunato Bifulco. Nel Gubbio Sandreani ha la sua seconda panchina, la prima in casa, e senza lo squalificato Marchi e si affida a Jalov e Ciccone in avanti. L'inizio del diavolo è negativo. Dopo 4 minuti gli Umbri sono già in vantaggio con il colpo di testa di Burzigotti lasciato solo su azione d'angolo. Avvio svagato per un Teramo che però si rimette subito in partita. Al nono Varas serve Bacio Terrecino, sventola repentina alzata da Volpe. Spinge il Teramo che vuole subito il pareggio. Ventola impegna Volpe dalla distanza intorno al quarto d'ora. Sugli sviluppi del successivo corner San Domenico mette dentro per l'inserimento di Graziano che corregge di testo un pallone imprendibile per Volpe. 1-1 con il secondo gol in campionato siglato dal centrocampista Scuola Torino. Nel frattempo il Gubbio aveva perso per infortunio Casiraghi rilevato da Cazzola. Dopo la sfuriata della mana la partita si incanala sui binari dell'equilibrio nel quale si annotano i tentativi di Gialova al 24esimo e la conclusione di San Domenico al 34esimo. Prima dell'intervallo si fa notare ancora Gialova il cui colpo di testa forse ostacola un compagno di squadra meglio piazzato. Quindi al 42esimo De Grazia pesca Gondò che conclude di potenza trovando però i riflessi pronti di Volpe. All'intervallo è 1-1 tra Gubbio e Teramo. Nella ripresa la squadra di casa è animata da Benaltro Piglio e aggredisce il Teramo. Al settimo calore è superlativo sul tiro di Ciccone. Nei minuti seguenti il Gubbio attacca a testa bassa costringendo il Teramo sui 20 metri e allora Palladini al quarto d'ora inserisce Ilari e Amadio per De Grazia e San Domenico passando al 3-5-2. La mossa è utile per tamponare le folate di un Gubbio che sulla fascia ha un gazzola arrembante. A cavallo della mezz'ora tocca anche a Panico al posto di Bacio Terracino quindi triplo cambio di Sandriani che mette dentro Bazzoffi e San Pietro e Giacomarro per ritrovare un'altra palla gol però bisogna attendere il 38esimo quando la sventola di Malaccari lambisce il palo. Non accade più nulla, il Teramo si accontenta, gli attacchi del Gubbio sono sterili e i biancorossi senza soffrire portano a casa il risultato che volevano.